Grazie ai militanti che sono rimasti. Non è importante il numero e io penso che se noi dobbiamo trarre un insegnamento e un'eredità morale da Gilberto Netto, che ci ha lasciato, che proprio in questi momenti stanno ricordando in tanti, anche Matteo Salvini a Belgirate, dobbiamo trarre un insegnamento che non è quello di un militante modello. Lo dico perché l'ho conosciuto e ho conosciuto le sue critiche e ho conosciuto il suo modo di essere profondamente padano senza essere un militante leghista prono all'ordine e alla disciplina. Lo dico questo perché oggi le cose vanno bene, tanti anche stanno arrivando, ma lo sport che deve farci crescere non è quello di dire sempre di sì, è anche quello di riconoscere un'organizzazione, una gerarchia, una disciplina, ma portare il nostro contributo di idee. Per fare questo non bisogna però fare la critica sconsiderata, per fare questo dobbiamo studiare, dobbiamo leggere e prima di parlare dobbiamo pensare. Pensare è la testimonianza e l'eredità che dobbiamo prenderci da Gilberto Neto, perché lui nei confronti anche di Bossi, non c'è più sicuramente nei miei, nei confronti della lega in tutti questi anni ha fatto questo ruolo, ha fatto questo ruolo che però, lo diceva sempre, me lo diceva sempre e chiedeva a riconoscere anche all'interno nostro chi in qualche modo, non essendo in prima fila, non ricoprendo cadreghe e opposizioni come è stato ricordato prima, si era ritagliato il ruolo, chiamiamolo così, di intellettuale scomodo, ma per fare questo bisogna pensare e per pensare prima bisogna studiare e leggere. Io penso che se noi vogliamo affrontare le sfide che alla lega, malgrado noi ci vengono poste oggi nel 2015, non possiamo rimanere esattamente quelli del 1989 o del 1988, perché le sfide sono diverse. Oggi noi dobbiamo essere semplicemente coerenti con noi stessi, perché prima ci trovavamo di fronte magari un nemico che era l'Italia, ma oggi quel nemico non è semplicemente l'Italia, non è semplicemente oggi Bruxelles o l'Europa come poteva essere cinque anni fa, il nostro modo di essere, l'essere padroni a casa propria, essere coscienti della nostra cultura, della nostra eredità, da che cosa veniamo e dove vogliamo andare, questa è la nostra coerenza, qua dobbiamo essere coerenti, non riproporre semplicemente le stesse formule che magari abbiamo proposto vent'anni fa o dieci anni fa, nel momento in cui tutto attorno a noi sembra andare in una direzione che non è il nostro patrimonio e la nostra ragione d'essere. Oggi tra invasione islamica, tra occidente che rinuncia ai propri valori, oggi vedevo una polemica per cui è semplicemente omofobo sostenere in una pubblicità che un figlio nasce, diciamo così, da un sesso e non da tutti e due. Ecco, di fronte al mondo che viene avanti, noi purtroppo, anche se non lo vogliamo, siamo rimasti gli unici a sostenere delle buone e oneste ragioni, che sono anche talvolta semplicemente quelle del buonsenso. Dicevo prima, non so chi, che fatica abbiamo noi a avere ragione. E purtroppo, a chi in qualche modo contesta Matteo Salvini una linea che devia dall'ortodossia, questo voglio dire, oggi Matteo Salvini è costretto a essere l'unico alfiere di questi valori, posto che nessun altro in qualche modo li coltiva. E io credo che facendo questo non va contro all'insegnamento di Gilberto Neto. E vorrei concludere questo mio intervento e questo congresso con una citazione che a Gilberto farebbe piacere. E credo che a tutti di noi induca qualche riflessione. Tanti la conoscono. Non tutto quello che è oro brilla, negli erranti sono perduti. Il vecchio che è forte non sa grinza, le radici profonde non gelano. Dalle ceneri rinascerà un fuoco, l'ombra sprigionerà una scintilla, nuova sarà la lama ora rotta e re che è senza corona. Ecco, le radici profonde non gelano, le radici profonde non gelano e se sono profonde resistono a ogni tipo di vento. Grazie, viva il nuovo segretario, in bocca al lupo a Paolo Grimoldi. Grazie.